Hey hey hey, vi do il benvenuto nel mio nuovo canale che ho cominciato con minecraft Allora perché cominciare con minecraft? Perché minecraft è l'unico gioco che non tramonta mai, che ne resta sempre Quindi ho deciso di cominciare con una serie in minecraft e anche perché la mia è una storia triste Inizia esattamente da 5 minuti fa, quando per una minchiata tutti i mondi mi si cancellano E allora ho deciso d'ora in poi che li registrerò tutti d'ora in poi quelli che farò E questa serie si chiamerà nostalgia Ok Prendiamo survival Niente trucchi Ok Ok Mettiamo il mio nome come semigeneratore mondi Ok Vediamo un po' E niente male come posto Siamo creati C'è Mi piace sto posto Un bosco Con una collina, con delle colline E penso una No Mi sembra una caverna Mi sembra una caverna Proprio il giorno in cui è uscita 1.7.4 E finalmente Le memorie dei miei mondi non andranno perse Scusate Scusate Dovevo rispondere al telefono Ma sapete A chi non A chi non succedono questi imprevisti Quando si è in live Mentre si sta registrando un video A nessuno A parte me Allora Cominciamo A fare le solite robe noiose Che si fanno in minecraft Ovvero Graffiare gli alberi Per buttarli giù E cominciare Per fare tutta la solita robina Per farla a casa Ci vuole il legno Per fare il legno Ci vuole il legno grezzo Per fare il legno grezzo Ci vuole l'alba Ehi È una canzone Per fare il legno Ci vuole il legno grezzo Per fare il legno grezzo Ci vuole Vabbè basta Avete capito Sono pure io di legno Un mi piace per la skin Scherzo ovviamente Ah E intanto vorrei salutare Tutti i miei amici Che Che avevano atteso tanto Il momento che io Facessi sto dannato video Ma scusate Ma gli imprevisti Sono tanti E sai Com'è Adesso che ho Per registrare La bandicam La versione La versione A Gratis Potrò registrare Solo fino a 10 minuti Quindi Quindi Non sorprendetevi Se Se magari vi lascio Così improvvisamente Il video Finisce improvvisamente Anche se non Anche se non ho finito Ma comunque Cercherò di tenere D'occhio L'orologio D'orologio D'orologio Ok dai facciamo In fretta Facciamo Allora Ammazziamo qualcuno Magari Ok Come potete vedere Ho fatto Una wooden sword E un wooden piece No è caduto giù Ok Oh dai posso fare Il letto Finalmente Dai E vai Che roba Che cosa Che roba Saltare addosso La pecora No Avete capito male Certo che minecraft Va molto a scatti Quando registro La pecora Mi ha visto Ok E ovviamente Non farò Solo minecraft Il mio canale Non è basato Su minecraft Ma Gameplay Vari Di vari videogioco Di vari videogiocchi Scusate E ci sarà anche Una serie Che chiamerò I vecchi videogiocchi Che in pratica Farò tutti I vecchi videogiocchi Che sia Di cui Si ha la nostalgia Di Di poterci Rigioccare E allora Se qualcuno Non può Io Faccio questa serie Qui Dei vecchi videogiocchi Oh Maialino Scusate Ma C'ho fame No Non è vero No Vabbè Il tempo è quasi finito Ok Eccomi qui Direi che Facciamo l'ultima cosa E poi Ci salutiamo Direi che Il primo rifugio Lo possiamo fare Qui Eccoci qui Per farla Casa Ci vuole legno Lavorato Per fare legno Lavorato Ci vuole legno Grezzo Per fare legno Per fare legno Grezzo Ci vuole Lavorato E quanti Idei che ho In mente Quanti Idei Che nelle prossime Puntate Inizierete A capire Insomma Oh Per ora Questo video Non è un gran Che perché Ho fatto un po' Così Alla Alla cavolo Così come veniva Vivi Troverete Nei prossimi video Troverete Di meglio Di questo Perché il resto Davvero Fa caghera Sono anche un po' Stanco Io Vabbè Adesso è qui Notte in Minecraft Quindi io direi Che ci possiamo Lasciare qui Che c'è